Start Me Up, l'innovazione tecnologica, sociale e culturale al Sud Italia. Al microfono Fabio Bruno. Ciao, questo è Start Me Up, il podcast che racconta le storie di chi al Sud Italia sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali. Start Me Up può contare sul supporto tecnico di Kidra.com, servizi web per il tuo business, e su chi mensilmente sostiene questo podcast attraverso Patreon. Spesso mi chiedono da dove vengono fuori le storie che ho deciso di raccontare a Start Me Up. Questa, per esempio, nasce da un fine serata. Amici calabresi che, dopo aver messo sul tavolo ogni ben di Dio, come solo un calabrese sa fare, mi propongono di assaggiare un amaro, di cui non avevo mai sentito parlare. Avevo un nome straniero, ma era calabrese, mi assicurano. L'amaro si chiama Jefferson ed è incredibilmente buono. Ora, io non ho preso una lira per realizzare questo podcast, ma ho deciso di parlarne, in questa puntata di Start Me Up, perché, indagando, ho scoperto che questo è un amaro che nel 2018 è stato premiato come il migliore al mondo. E questa è solo una delle notizie che caratterizzano la storia dell'amaro Jefferson. Mi chiamo Ivano Trombino e sono il produttore di Vecchio Magazino Doganale, nonché anche il creatore delle ricette all'interno della nostra selezione. Chiamo Ivano un venerdì mattina di gennaio. Il venerdì mi spiega il giorno in cui non lavoro in campagna e posso trovarlo in ufficio. È uno dei gennaio più freddi degli ultimi anni, ma Ivano, oltre al cappellino di lana che indossa, non sembra accusare più di tanto la temperatura. Decido di iniziare la mia intervista da un particolare che leggo sulla bottiglia di amaro Jefferson, dove si legge che è un amaro importante. Allora, importante sta proprio nella categoria. Prima di tutto rendere importante una categoria dei liquori, che a volte è stata anche denigrata dal comparto, perché si pensa sempre che un distillato sia superiore ad un liquore e c'è una grande differenza. Jefferson è un amaro importante perché crea in Italia una nuova categoria, che è il mondo degli amari premium, che fino al 2016 era praticamente inesistente. I competitor che navigavano in quel settore avevano una forbice di prezzo che si aggirava dai 7 euro fino ai 16 euro. Jefferson va in una categoria completamente a parte, che è quella dai 28-32. Quindi si avvicina in modo spudorato, devo dire senza timidezza, al mondo dei distillati. Naturalmente l'essere premium non dipende solo dal prezzo. Quello che c'è dietro è un metodo di lavorazione completamente diverso, quindi lavorando le botaniche da fresco, coltivandocele da noi, quindi non acquistiamo nulla da terzi, se non quelle botaniche che arrivano realmente fuori dall'Italia, ma sono veramente poche. Tra l'altro la non forzatura proprio all'interno di vecchio magazzino di usare delle botaniche è quasi impossibile, a volte uno dice uso questa botanica con questi nomi abbastanza strani. Invece le mie ricette nascono proprio da quella che è l'estrazione delle vecchie erbe usate in cucina, sia nel mondo dei decotti, quindi a livello digestivo, dalle nostre nonne, quindi dobbiamo andare un po' indietro nel tempo. Quindi io ho voluto riportare un po' quello che era i vecchi metodi ancestrali di cura calabresi e i vecchi metodi ancestrali nella cucina calabrese, quindi dall'alloro a tutte queste cose che vengono comunque usate. Mentre Ivano mi parla, cerco di immaginarmelo al lavoro, intento a capire quale botanica possa essere più adatta per creare un uovo amaro. Sarà forse la lunga barba scura o la fierezza del tono della sua voce. Quando ho creato questo amaro doveva avere due componenti importanti, doveva essere buono miscelato e doveva essere buono bevuto liscio. Devo dire che tutte e due le cose ci sono riuscite in un modo perfetto. Oggi abbiamo Jefferson nelle migliori drink list degli alberghi e dei ristoranti e dei bar che miscelano il mondo bitter, quindi il mondo amaro. E poi siamo stati bravi anche a farci conoscere, tra virgolette, in modo veloce, perché la conoscenza del brand Jefferson è veramente alta per i suoi solo, diciamo, cinque anni e mezzo. Perché creare un brand liquoristico in cinque anni e mezzo è, devo dire, è stato veramente straordinario. Questa è una cosa che mi meraviglia anche un po' a me, perché vengo dall'estrazione liquoristica, quindi so quanti anni ci vogliono per creare un brand. Invece noi siamo stati un po' più veloci, forse fortunati, forse bravi nella comunicazione che non è mai invadente, però insomma è stato un grande successo sotto questo punto di vista. Sulla crescita di Jefferson decido di tornarci dopo, perché ci sono alcuni aspetti interessanti che secondo me vale la pena approfondire. Resto sulla comunicazione e la storia che possiamo leggere sul sito di Vecchio magazzino doganale. La storia naturalmente per me è un patrimonio tra virgolette di famiglia, la gente oggi parla in modo forzato, un'azienda deve avere uno storytelling. Noi l'avevamo perché, voglio dire, questi tre americani arrivano in Calabria e lavorano al vecchio magazzino fino al 1914, più o meno come data, e sono arrivati nel 1871. Non hanno portato nulla di segreto in Calabria, erano dei puri lavoratori. Jefferson era il capitano di questa nave, Roger e Jill erano altri due che erano componenti di equipaggio, ce n'erano probabilmente altri, ma si sono accasati altri lì di altre situazioni. Poi lì fanno altro, non portano nulla di americano se non questo vizio di bere. È Giocondo Trombino, che era il nonno di mio nonno, era uno che faceva degli intrugli in casa. Da lì non ho preso nulla come ricetta, quindi la realtà poi, i gusti sono completamente attuali. Devo essere sincero, io ero piuttosto scettico sulla veridicità di questa storia. In realtà mi sbagliavo e il modo in cui Ivano l'ha scoperta è una storia nella storia. La ricerca parte prima per una volontà di mio padre di scoprire che fosse finito mio nonno, quindi partiamo da un pezzo di storia, diciamo, triste di famiglia. 1950 non è Gidio, parte, va in America in cerca di fortuna e insomma non è più tornato. Lui non è tornato, non è Gidio e per volontà di mio padre incomincio a cercarlo, trovo questa figlia, quindi lui si era rifatto una famiglia e mi racconta, diciamo, del vecchio magazzino doganale. Non sto ad allungarmi con quello che possa essere l'emozione o tutta questa cosa qua o scoprire che papà comunque aveva una sorella nuova e quindi tutto questo. Però insomma nonno raccontava di questo vecchio magazzino, noi non ne sapevamo nulla. Ed è in quel momento che Ivano scopre cosa era vecchio magazzino doganale. Nasce come azienda agricola perché vecchio magazzino doganale faceva questo, vendeva grano maesorzo, era un'azienda agricola a tutti gli effetti, vendeva i primi attrezzi, e l'agricoltura. Quindi io mi ingegno, man mano che mi sono avvicinato ai miei 40 anni, mi ingegno, voglio dire, a ricreare il vecchio magazzino e commercializzare, e questa è una parte di reddito ancora attuale, in Italia alle aziende licoristiche vendere materie prime, nostri calabresi. E dopo un po' Ivano si fa prendere la mano, diciamo così. Io, diciamo, sono un esperto per quanto riguarda il mondo licoristico, mi è incominciato a balenare l'idea di creare una ricetta. Quindi avevo questo nome Jefferson, creio il claim a mare importante, che naturalmente sono tutti i marchi registrati. È ovvio che da produttore mi sono mosso nel mio, no? Devo dire a mia discolpa che immaginavo che la storia dei tre marinai non fosse vera, perché al di là del senso letterale ci avevo trovato come un'allegoria della Calabria. Un ritratto cioè di una regione che spesso viene raccontata per ciò che di negativo ha, ma che sa essere accogliente, straordinariamente bella e soprattutto ricca. Ricca la Calabria, descrivo con gli occhi di questi tre marinai l'attraversata che anche noi oggi possiamo fare a piedi all'interno della nostra Calabria, quindi comunque trovano questo paradiso botanico che è realmente visibile a tutti noi ancora oggi, perché devo dire che sono passati 150 anni, però devo dire che l'essere selvaggio del nostro territorio calabrese è rimasto più o meno integro per fortuna e speriamo che duri nel tempo. Poi quello che è l'attraversata che fanno, quindi salendo dal tirreno, andando verso l'entroterra, vediamo un panorama strepitoso mozzafiato. Quindi tutte queste cose sono delle componenti reali che noi abbiamo ancora oggi in Calabria. Sono ritornato che avevo sette anni, quindi per volontà dei miei genitori, per approfondire gli studi, quindi dall'elementare poi fin dove sono arrivato, in Calabria. È ovvio che ho girato, ho fatto anche delle consulenze, voglio dire, ma ancora continuo, meno male a dare delle collaborazioni ad aziende e multinazionali italiane ed estere, quindi comunque l'occhio l'ho avuto sempre a delle vetrine accattivanti, che devo dire a me in Calabria ci sono delle vetrine naturali straordinarie, però poi quando parliamo sotto l'aspetto commerciale siamo un pochino ancora più chiusi rispetto ad altri mondi. Quindi guardando l'occhio calabrese, guardando a quello che poteva dare in giro per il mondo, ho dato questa forma, diciamo, diversa, se così la vogliamo definire. A me questa cosa dell'occhio calabrese sul mondo mi fa uscire di testa e, al netto di quanto mi racconta Ivano, non lo blocca nel suo mondo, anzi. Mi muovo in un territorio come ognuno dovrebbe fare, voglio dire, quindi mi sono mosso nel territorio calabrese, anche se il piglio, diciamo, tra virgolette aziendale è sempre di essere un'azienda italiana. Poi arriva la nostra regione di origine, perché poi spiega anche i gusti dei nostri prodotti, però il mio imprinting che ho voluto dare, proprio il marchio, è quello di essere più italiani possibili, perché fuori dall'Italia esiste l'Italia e non tutto questo mondo variegato, Calabria, noi a sud e a nord, qua e là. Avere un approccio internazionale, anche se forse in questo caso potrei usare il termine glocal senza troppe forzature, caratterizza il successo di Jefferson. Anche in questo caso l'ingrediente numero uno è stata la consapevolezza. Già quando è nato Jefferson ero consapevole di aver fatto qualcosa di unico. Sotto questo punto di vista era diverso. Perché? Perché non ci sono addensanti, non ci sono coloranti, non c'è caramello, non c'è la cicciosità che si trova negli altri amari. In Jefferson è molto liquido, beverino. È ovvio che volevamo tarare Jefferson a livello proprio di gusto e di palato a livello internazionale. E quale miglior test se non la partecipazione al World Drink Awards? Il concorso per il miglior liquore a livello internazionale. Quindi per noi è importante avere un parametro. Ci siamo messi a disposizione di un panel di degustatori che non erano solo italiani. E quindi questo per noi è stato importante, capire se il gusto potesse performare anche al di fuori dall'Italia. E questo ha funzionato. E ha funzionato sì, visto che l'amaro Jefferson ha vinto il primo premio dell'edizione 2018 di questa manifestazione. E da totale outsider, vecchio magazzino doganale, si inserisce in una tradizione liquoristica nazionale che è riconosciuta a livello mondiale. Io definisco il popolo italiano per quanto riguarda il comparto liquoristico il numero uno al mondo. Quindi siamo i più bravi a creare dei liquori. Ma questo, nell'esempio, ne abbiamo tantissimi di brand importantissimi che spopolano, tra virgolette, all'estero. Oggi se guardo i best seller in esplosione sui mercati americani, insomma, di italiani ci sono 3-4 brand importanti. Sicuramente Campari lo è stato nella vita, però ce ne sono tanti altri che stanno emergendo. Vedi Cocchi nel mondo del Vermouth e quant'altro. Quindi tante aziende che impongono il liquore, tra virgolette, italiano all'estero in una forma smagliante. Guarda caso, tutti questi prodotti hanno una componente americante, quindi sono verso dei gusti che vanno verso un gusto amaro. Alla base della crescita di Jefferson c'è la qualità del prodotto. A questo bisogna aggiungere le intuizioni e le doti di Ivano Trombino in campo prettamente commerciale e di marketing. Ma come si può garantire questa qualità anche sui grandi numeri? C'entra, per usare le parole di Ivano, il concetto di artigianalità. Artigiano o piccolo non significa nulla, perché quando sbagli una ricetta è sbagliata, quindi non ti dà neanche la possibilità di migliorarla. Quando lavori con una massa critica più importante, rispettando sempre quelli che sono i metodi di produzione, quindi la banca, degli infusi, farli con la ciclicità della natura, eccetera, eccetera, ti dà la possibilità di lavorare sempre meglio e di bilanciare sempre meglio il prodotto all'interno di una bottiglia. è ovvio che siamo in difficoltà, perché anche oggi, in questo preciso istante, siamo senza Jefferson. Bisogna far capire al cliente che c'è un'attesa naturale e questo è quello che noi dobbiamo mettere nella testa dei nostri consumatori. Se non si trova una bottiglia, pazienza, perderemo dei volumi, ma guadagneremo in quello che è la nostra serietà, che manteniamo sempre identica. E qui, come me, non faccio questo lavoro, ci tengo a precisare, come hobby. Io devo trarre dei profitti da vecchio magazzino doganale per poter amplificare quelli che sono i miei progetti futuri. Quindi a volte quando sento questi produttori piccoli che dicono, vabbè, ma tanto lo faccio per me. Io lo faccio per venderlo prima di tutto, perché comunque dobbiamo generare dei risultati. Un cambio di prospettiva che a me sembra molto moderno. Il profitto non può essere l'unico parametro da considerare quando si sta sul mercato. In questa espansione Jefferson sta diventando, per quanto riguarda, sempre più buono, perché lavorare con un parco botanico più ampio, quindi andandolo a differenziare anche come zone, ti dà la possibilità di avere un'estrazione botanica sempre migliore. Quindi la ricerca ti aiuta a migliorare. Soprattutto porto Jefferson, tra virgolette, che non è mai lo stesso. Se noi prendiamo due lotti di bottiglie di Jefferson e lo assaggiamo quella sera stessa a tavola, ci accorgiamo che il prodotto non è mai lo stesso. E questa è una cosa che a me fa impazzire, perché è una cosa straordinaria. Mentre parla, Ivano nasconde dietro la sua barba un sorriso tipico di qualcuno che la s'allunga e che ha anche tanto da raccontare. E io non fatico a pensare che i successi che ha collezionato fin qui siano frutto della qualità del suo prodotto e di come si è mosso nel mercato. Ma dietro c'è anche un concetto di impresa molto preciso. Imprenditore e produttore sono due cose ben distinte e separate. Io non sono un imprenditore, quindi ragionando da produttore ho capito che dovevo rimboccarmi le mani io stesso. Quindi rinuncio a quella parte di gloria nel dire mio mi impettisco, mi faccio, mi dico. Sono un produttore che ha bisogno di fare una grande squadra come la mia, perché poi da solo un produttore non va da nessuna parte. Quindi sporcarsi le mani significa produrre quello che fai e raccoglierne anche i frutti. E quindi da lì capisci che lavorando direttamente sul terreno sei ore, sette ore, incominci a capire che se tu hai dei limiti anche chi lavora con te ha quei limiti e quindi ti devi fermare. Io vivo veramente il futuro come dico sempre mio. Per me il futuro è domani, cioè non posso pensare a cinque anni, sei anni, dieci anni. Ovvio viviamo anche noi di obiettivi. Il 2025 vogliamo arrivare a fare. Ci arriveremo? Questo non lo sappiamo. Cioè se noi pensiamo a due anni fa e vediamo questa cartolina dal rovescio, non pensavamo di arrivare dove siamo arrivati. È l'aspetto pandemico che è importante perché ha bloccato determinati progetti. Quindi tutte queste cose sono imprevedibili. Quindi mi sono dato questo obiettivo. Vivo il futuro domani. Per me è così, nell'immediato. Questo concetto che c'è dietro al vecchio magazzino doganale si esplicita ancora di più nel proverbio che, in chiusura, chiedo a Ivano di associare la sua esperienza professionale e di vita. Pu dare retta a suono, non dare retta a sogno. Nel senso che non credo mai in quello che la gente dice, fai così, fai così. Io dico, pu dare retta a suono. Io mi avanti senza problemi. Quindi per me è importante mantenere ed essere coerenti. Poi la Calabria, che è un territorio molto duro e critico sui calabresi. Devi stare bello saldo con i piedi a terra e anche ricevere delle critiche che a volte manco ti competono. Inizialmente ho un carattere molto focoso, ero un po' più aggressivo. Invece adesso oggi mi lascio un po' scivolare le cose perché poi la maturità e la consapevolezza di dove sei ti dà anche questa grande forza. Quindi, ripeto, sono tranquillo. Viviamo la giornata di un contadino. Ci prendiamo dei meriti che secondo me sono straordinari perché se riusciamo ad arrivare sulle tavole o nel mondo regalo, così in tanti posti, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Quindi sempre con grande, grande, grandissima umiltà, che è quella che ci contraddistingue al Vecchio Magazzino. Lui era Ivano Trombino di Vecchio Magazzino Odoganale. Ho trascritto questo podcast utilizzando transcribe.refactoring.com. Trovi il link al testo nella descrizione di questo podcast e, nel caso volessi approfondire e saperne di più su Vecchio Magazzino Odoganale, sempre nella descrizione del podcast ci sono tutti i riferimenti. Basta andare su radiostarmiapp.it. Starmiapp si ascolta in podcast attraverso la tua piattaforma preferita. Ma Starmiapp non è solo un podcast. È anche un blog che ti consiglia libri da leggere, ti suggerisce tecniche o strumenti per migliorare il tuo lavoro quotidiano e, in generale, tiene un occhio aperto su quello che succede al Sud Italia, dal punto di vista dell'innovazione. Tutto ciò è gratis da ascoltare e leggere, ma non da produrre. Al momento, Starmiapp si sostiene grazie alle inserzioni che ogni tanto sente all'interno del podcast e alle donazioni spontanee di chi vuole che le storie di un Sud Italia che innova continuino ad essere raccontate. Se ritieni di valore ciò che hai appena ascoltato, fai la tua donazione oggi stesso. Oltre alla mia più profonda gratitudine, mi aiuterai a produrre altri contenuti che ruotano sempre intorno al binomio Sud Italia e innovazione. Grazie per aver ascoltato questo podcast fino a qui. Lascio la parola a Cristina, che ti consiglia come supportare in modo gratuito Starmiapp e grazie naturalmente in anticipo per quello che farai. Noi ci sentiamo fra circa due settimane con una nuova storia di chi sperimenta nuovi modelli lavorativi, sociali e culturali, ovviamente al Sud Italia. Alla grande! Ti è piaciuto questo podcast? Dilo con una recensione o mettendo qualche stilina su iTunes. Un complimento fa piacere, una critica ci aiuta a crescere. Segui il programma su Twitter, LinkedIn e Instagram. E se ti piace, abbonati! Non perderai così neanche un podcast. Starmiapp può contare sul contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business. Per info e contatti www.radiostarmiapp.it